Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Trovate questa persona, che è la Jessica E ci troviamo a fare unboxing tipo alle due di notte e basta Perché sono tornati di spazio e dal Luca Contriamo l'album da fare gli unboxing Dettagli Questo lo volevo da tanto che Quello penultimo, vabbè, quelli che sono usciti a dicembre scorso dei Seventeen E quindi l'ho visto e ho detto Lo voglio Quanta roba ci sarà qua Questo è il photobook, è abbastanza grosso Ho paura Madonna Cioè comunque anche se è roba tipo di neanche un anno fa Sono comunque dei feti Sono sempre feti questi Come è preso? Come è presa la gente? E sono concentrata, sono troppe persone Ah, è scomparso È lui? Boh, non so se capisce Due minuti Vabbè Due minuti di audio inutili Sì Questo è tipo Interessante Oh mio Dio Aspetta, facciamo vedere Sì, infatti Prendiamo avanti Sì, beh, è il Mingyu Il Mingyu è suo Ma è il mio mezzo Roe che non so come definirlo Ah, ma sì, infatti Lavori pesanti Lavori pesanti In fabbrica Sì, ma tranquillo Tante peschezza non le prende È fatato Sì, è fatato Questi messi Apprezzamento Comunque Apprezzamento Madonna Cioè Biondo Il Mingyu Sempre Ma perché Anche prima Fare gli esemplici Gli articoli E dicevo Il Mingyu Perché lui Ma basta benissimo Cioè Due O c'è un Sol Credo Sì, scusi Facciamo vedere Ok La Hip Hop Lime Finita Ho paura di Se c'è una O un'altra Ah no Ma cosa vuole One One Guarda Più di mezzo Ma c'è una persona Cos'è quella cosa Mi aveva Lo stalker Rivalutazione Ma c'è solo lui Cos'è Non arrivo allo Spazamento Quello No Forse la rivalutazione Verona Cioè Non è che l'abbia mai Diseredato Però Faccio vedere queste foto Però Verona Tipo Versi Che delirio Sì sì Poi Un po' Perso E che sta roba Sì ma non c'era Bisogna andare avanti Cos'è Una della China Line Che è il mio profetto È You O Jun Ma hai capito come si dica Sì Beh vedi io lo rivaluto Sto uomo Sta crescendo bene Stai rivaluto Sto uomo Si è appellito Si è appellito Ah è vero Questa è bella Vabbè Io andro con la finita Ma no Ma se sono solo loro due Ma no Cioè Ma è quasi forse Ci dovrebbe essere Mgao E Oshii Teoricamente Eh vedi Questa foto Cosa fa Oshii Ma che faceva Ma no Che faccino Oshii Ten hour time Minus Cioè Da proteggere Proprio Asht Da proteggere C'è una larga Di mone Modellino Questo Con lo alto 20 metri Sta benissimo Wow Questa foto Per me sta foto La vorrei invadere Dopo Questa foto L'altro China Line Pricca voglia Ma poi ho vestito Benissimo Sempre Ah Ma io Cos'ho scritto Sembra Non l'avevo visto Costruiscono Diventano Palignami I soldi Subliminali Compro I reni Eh Non Ok Quindi scegli il colore Scegli Che revo vuoi Ma tipo Wow Bellissimo Marevo Ma che cos'è Come una Bellissima Orba Sono Uuuuuh Oshii l'ho Rivolgita a stare in te Da sempre Proprio Da sempre Ma che cos'è Oshii Poi Chi c'è No Mai l'altro Momento per C'è un fiore Esatto Che bella sta foto Si Ah ok Di K Cioè in realtà Io non l'ho mai capito Di Kappa Di Kappa Di Kappa Doraemon No Doraemon E Dino Io ho capito il suo nome Perché il suo nome Tipo Se è un So Come è So Che dici Però Si ok Il suo stage name È di K Però a volte lo chiamano Di Kion Non so Vai di gruppo Oh che bellina Questa è bella E con i concentrati All'ufficio Momento boss Delle bar Di Boss Posti green Ecco c'è il mondo E sono tre vicini Tutti loro Si Il figlio numero due Il gatto seccione Quanti figli ha Tanti Oddio Loro tre Proprio pezzenti Pessenti Qua Vabbè tanto C'è tanto Così meno Così meno Cioè Il me è tipo Uno dei tanti Rack Che ho qua dentro Di semplici Ci sono talmente Tanti Un bias Un 12 Rack Sotto 20 Ma che bellino così C'è no 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 Ricciolino Così Vuol dire si è fatto via Ritorna dal padre Ritorna dal padre che Ma vai a fare la spesa Ma va bene No no ma che brutto album C'è qua Che lega Ti ho convinto a brutto album Ma cos'è ma scusa Inanime in pena Lì nell'ombra Un broso Un broso Che rimane che ho metto testo Ok Sì mi è tolta roba qua Soncran barra bu Barra cattuccione Barra secondo via Barra secondo via Barra I'm from Jeju Eh lo dice lui Ok Sono le costrutture Le menti dietro Agisce Ma che belli questi colori Io andrò questi colori Cupi No ma che bello Che sta piuttosto male Barra di concentrazione Cioè Un po' costruire tutto quello che vuoi Certo Vedo che non arriviamo in commenti Ma Johanna Questa è una cosa bellissima Deve proprio smetterlo Ma perché c'è Bumbu? Cosa c'entra Bumbu? Con la vocal line Sì è un'immigrafica È ancora antica Con le cose Il 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 La tavoletta Ok Perché Impressi Cioè ma Anche luci per Più concentrato Ma queste cose devono fare Il palegnano Il gel Bello Tutta gigante Molto tipo anni 80 Molto Bruce Priest Oshiguara per sto video Cascolo Oddio Ma che figo Ma questo è bello Madonna Album che dura notte Va bene Cioè sia lui Ma Ti piaceva schifo questo album Specialmente Vusi Vusi è bruttissima Guarda Ma basta Sempre Sì perché Una ship In realtà Loro due Non so come si chiamino Non chiederlo Me Però si Tipo Sono tanto Tipo Oshiguara Dicono che Oshiguara Mi chiamano i giusi Ma non lo so Cioè Ah ok Ah sono i leader I tre leader Dei cosi Che lui È Hip hop Vocal Che poi quando sta lì di strano C'è magia Un sguardo da cattivo Va bene Può fare Har haro È una barca da pirata Sì Infatti Cioè non so Moderna però E sì Ok Va bene Oddio ma cosa vuole Sì è un van Cioè proprio Ah i 98 Suona Ma Questo uomo Questo è il cappellino Sì è una parte È il chip Che esce Ok ok Questo uomo è del 98 Perché mi deve creare problemi Cioè Ha 4 anni Meno di me Sono tanta Piedono Oh mio Dio Ma cosa ho pensato Ma perché Ma poi che stanno Fanno stimisti Di No No Cioè proprio no Quanti sono Gente che non voglio vedere Ancora Sì ma No Mingao il bel pitturino Il bel pitturino Il bel pitturino Cos'è il bel pitturino Il bianchino Oddio che bello Oddio che bello E' per questi Bionno è proprio Guarda questa Bionno è proprio il no Vabbè è lui del 97 Quindi ha i loro due Più dei disagi Dino È felice È felice Scusate ma non ce la faccio Dikey vai Mi piace Cos'è in mano Scusate Acqua Ah sta pitturando pure lui Furbice della punta arrotondata Ah Jun O Jun Vabbè Vabbè lui Lui Questa cosa è bella Non ho ancora capito Qual è il suo vero Chinese name Ma vabbè Lo scopriremo Vedendo Ok L'accoppiata Mi taglio io Mi taglio io No perché Oh oh Come si è andata solo all'inizio ecco questi cappellini è l'unico più il minchio ma così si capisce il più basso tanto questo che ha carattere noi siamo il quattordicesimo membro dei che tipo è il biglietto per andare tipo in crociera va bene ok vabbè è questa roba non l'ho visto questa cosa è estrae le cose questa cosa ma che figo ma cos'è il nome si legge allora più o meno questo ho già visto di chi c'è questo aspetta è Dino lui è Dino si è la coppia di prima si la copiata finale abbiamo visto una morte tanta morte si ma appunto ma questo roba quante roba c'è ancora ah ok ok questo è l'album ah le liris così tanto un fogliettone così cioè liris paper ma pure è gigante per una volta comodo di tutto va bene allora questa cosa è tanto illegale cioè in realtà secondo me nessuno è brutto di ste proprio no qua no 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 ma dico nessuno di ste versioni perché è una bellissima questa cosa allora approvatissimo diteci anche voi se siete fan dei 70s Bias Wrecker chiunque cosa se siete fan del kpop cos'è? passiamo a bucci dal fulg tipo ehi come vuoi? e mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video ciao